Buongiorno, sono Alberto. Siamo alla cantina Alberto Ballarin. Siamo una cantina di famiglia ormai da generazioni. Siamo alla morra, nel cuore del barolo, nelle langhe, ma precisamente all'annunziata, uno spicchio di langhe che noi amiamo profondamente. Lavoriamo, siamo proprietari di circa 8 ettari di vigneto. Produciamo quindi soprattutto barolo, ma anche nebbiolo, barbera, dolcetto, è una piccola produzione di bianco. Possiamo dire di essere frutto tra il passato, il presente e il futuro, perché siamo un po' la sintesi del valore della terra, della tradizione con cui mio papà Giorgio è cresciuto e ovviamente anche un po' la mia spinta verso il futuro e l'innovazione. Ma qual è la nostra filosofia? La filosofia serve a comprendere noi stessi e la verità. E la nostra verità è molto semplice, che il vino è uno dei più grandi piaceri della vita. Deve però essere fatto con cura e con rispetto. Partiamo dalla vigna, perché il vino si fa soprattutto in vigneto, con trattamenti minimi, con una viticoltura sostenibile e ovviamente con tanto lavoro manuale, tramandato da generazioni e dalla famiglia Ballarini e ovviamente anche in cantina. In cantina noi cerchiamo equilibrio e territorialità. L'equilibrio è quell'armonia tra bevibilità ed eleganza. E territorialità, e beh, territorialità è il rispetto massimo dei nostri vigneti e la ricerca della salute del nostro vino.